La notizia sta facendo andare di traverso le vacanze estive ai tifosi napoletani. Iguaina, la Juve e Roba da far tremare i polsi agli azzurri amanti del calcio che non vedevano l'ora di vedere il loro idolo aggregarsi alla squadra in ritiro in Val di Sole. A leggere i quotidiani sportivi però, pare proprio che il Pipita abbia deciso di non seguire i compagni a Dimaro impegnati nei duri allenamenti con Mr. Sarri. La notizia, smentita, va detto attraverso un SMS dal presidente De Laurentiis alla redazione di Sky Sport ha oscurato anche l'arrivo del secondo acquisto Emanuele Giaccherini, un bel colpo del DS Giuntoli che arriva a rinforzare la tanto bistrattata panchina del Napoli, punto debole della passata stagione. Il giocatore ex Sunderland effettuerà le visite mediche per poi aggregarsi al gruppo. Il Napoli punta a rinforzare ancora la difesa, i rumors di calciomercato danno per scontato anche l'arrivo del terzino Davide Santon, un predestinato fino a qualche anno fa, poi finito nel dimenticatoio. Difficilmente ci andrà nel dimenticatoio il giallo Higuain, cominciato dopo l'ultima di campionato con l'interessamento dei grandi club europei Arsenal in primis e ora alla tappa dell'odiata Juventus.